Un artista esistenzialista schiavi del Dio, denaro, riferimento in quanto al caso è al calcio perché non si può fermare la Serie A, ma si fermerà per il decreto che arriva fino al 3 di aprile ma non si ferma assolutamente la Champions League e l'Europe League quindi interessi lauti, alti, elevati, pazzeschi, quindi somme, esorbitanti un valore di una coppa come la Champions, inestimabile e quant'altro ma la vita umana sembra non avere tutta questa importanza rispetto al Dio, denaro perché comunque fondamentalmente si deve continuare show must go, come avrebbe detto Freddie Mercury lo show deve andare avanti comunque anche a rischio di arrepentare la vita umana e per quanto riguarda i calciatori perché poi questi sono esseri umani non sono delle bestie ma interessi che sono talmente alti per cui non si può smettere, non si capisce il per come o il perché però ripeto, dovrebbe slittare l'Europeo, i campionati potrebbero rallentare o fermarsi addirittura ma le coppe devono andare avanti a porte chiuse come volete, sigillate, blibli, blibla come meglio si crede, però ripeto, vedete com'è importante il Dio, denaro e com'è poco importante la salute delle persone e questo fa riflettere tanto l'artista esistenzialista umana strada a tutti e questo fa riflettere tanto l'artista esistenzialista umana strada a tutti i campionati e questo fa riflettere tanto l'artista esistenzialista umana strada a tutti i campionati